Prorogati gli screening mammografici fino al 31 dicembre presso il distretto del presidio ospedaliero agropolese. La notizia è giunta qualche giorno fa ufficiosamente da parte dell'Asala di Salerno. Ufficiosamente perché fino ad oggi non ci sarebbero le autorizzazioni scritte a firma del direttore sanitario del presidio Vallo Agropoli, Adriano Di Vita, e del direttore del distretto sanitario di Agropoli, dottoressa Marilina Aloia, che darebbero il via all'attivazione dello stesso. Lo strumento molto utile ed indispensabile per la prevenzione del tumore alla mammella era stato al centro di polemiche per via della possibilità di trasferimento presso la sede del DSB 66 di Pastena. Da qui la richiesta dei cittadini di Agropoli e al sindaco Coppola di impegnarsi in prima persona per evitare lo scippo. A quanto pare lo strumento di ultima generazione, altamente performante, attualmente però è fermo presso il presidio ospedaliero di Agropoli perché per oltre sei mesi non si è riusciti a trovare una collocazione adatta. Il mammografo fu inaugurato nel 2018 e in un anno e mezzo è riuscito a fare 1600 screening mammografici. I cittadini di Agropoli e dell'intero distretto sanitario si augurano che presto possano ritornare ad usufruire di uno strumento utile e soprattutto indispensabile per la diagnosi precoce del tumore alla mammella e che nell'immediato sia individuata la stanza che possa accogliere la strumentazione per far ripartire il servizio.